Cibus 2018, ci troviamo allo stand di Fonte Plose e siamo in compagnia del direttore commerciale. Davide Grigorini, buongiorno e benvenuto dinanzi alle telecamere di OrecaTV.it. Bene, bene, grazie di averci invitato a questa intervista, fantastico. Conoscete già il Monte Plose? Noi non ancora, o meglio loro non ancora, io più o meno lo conosco, ma spieghiamolo a loro. Certo, allora Fonte Plose è un'azienda che sta in Alto Adige, a Bressanone esattamente, sfrutta la montagna che è il Monte Plose, dove traiamo da tantissimi anni la nostra fantastica acqua. Da quanti anni? Quando nasce Fonte Plose? Quest'anno ormai è il 45esimo anno. E tu sei in Fonte Plose da quanti anni? 26 anni, che lavoriamo insieme, questa bellissima partita tra me e l'ex figlio del titolare, oggi amministratore. Abbiamo fatto questo meraviglioso percorso nel mondo dell'Oreca, pian pianino partendo dalla Lombardia, poi spingendoci oggi verso il sud e anche all'estero. E voi non vi fermate naturalmente solo all'acqua? Assolutamente sì, essendo noi un'azienda che ha lavorato da anni nel mondo biologico con dei partner molto importanti nel mondo del bio, abbiamo poi creato una linea di bevande e succhi di frutta e tè biologici, da lì siamo partiti con questa nuova era del mondo plose. Qui cosa presentate? Quest'anno presentiamo perché siamo nati l'anno scorso con una nuova linea di tè che si chiama Tè Collation, sono 5 tè, limone, pesca, tè verde, un tè bianco e zenzero e un super frutti. Sono tè senza zucchero, ad infusione, sono comunque dolci perché dolcifichiamo con un succo d'uva che è un dolcificante della frutta e stiamo andando molto molto bene. L'abbiamo presentato l'anno scorso però il Cibus è biennale perciò il Cibus è una novità. Noi avremo modo naturalmente di parlarne ultimamente su orecanews.it, il quotidiano dell'Oreca e avremo modo poi di incontrarci nuovamente in una delle prossime fiere per gustare qualcuna delle novità che certamente avrete in serbo per noi. Quante sono fino ad oggi i gusti di tutte le bevande fonte cluse? Abbiamo 25 referenze, 10 succhi di frutta, 5 tè, 10 bibite, bevande gasate e poi 7-8 acque minerali. E allora salutiamo gli amici di Oreca TV. Grazie dalla fonte pluse e a Oreca TV. Ma prima ancora di andar via, diamo allora un indirizzo di posta elettronica per poter entrare in contatto con voi nel caso in cui desiderino avere maggiori informazioni, iniziare un contatto di tipo, una partnership di tipo commerciale e così via. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere? Vabbè o a info.acquaplose.it oppure sul nostro sito, dei nostri canali che è www.acquaplose.it Benissimo. E allora noi proseguiamo, assaggiamo un po' di prodotti misti che hanno già preparato e continuiamo a documentarvi con telecamera e microfono di quanto sta accadendo al Cibus 2018. Non andate via. Grazie. Grazie a voi.